via questi primatogli ciao a tutti ragazzi e benvenuti con un nuovo video io sono ggfortrat oggi ragazzi rappresenteremo la nostra il nostro simbolo del nostro canale ragazzi ora lo vado a sistemare ok ragazzi l'ho sistemato l'ho colorato e tutto dentro ce l'ho inserito i giochi ecco ragazzi cos'era tipo io tipo faccio così e pa l'ho preso con questo dito questo quindi uno due tre volte devo farlo uno due tre poi allora qua rimpiccioliamo e mandiamo verso di me qua saltiamo lo facciamo con l'altra mano allora per primo l'ho toccato con questo quindi uno due quindi dobbiamo scegliere il due lo userò tipo così lo userò e qua c'è scritto fortnite e allora aspetta ragazzi ce lo devo ancora scrivere ok ecco ragazzi ora ragazzi andremo a scrivere fortnite andremo a scrivere tutti i giochi allora f o f r t n i t e e questo signore qua mi mi nè che la e c i al non facciamo come facciamo clash of clans clash of clans e insieme a question clans clash of clans e tutti i messi allora ragazzi chiudiamo 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 andiamo così così sbagliato letteralmente perché non ho fatto il castello bene ragazzi questa sarà la megacin del nostro canale ogni volta per scegliere che contenuto portarlo sceglieremo insieme facendo questo l'ho presa prima con questo quindi 12 12 poi con l'altra mano l'ho toccato prima con questo 1 2 3 numero 3 il numero 3 apriamo clash of clans e ragazzi contenuti saranno sempre questi qua solo quando esce un nuovo contenuto la aggiungo facendone altri io intanto ho fatto questa qua che era piccola cioè ragazzi questo era da 14 centimetri guardate cosa è uscito c'era ragazzi c'era ragazzi sentite il rumore proprio figo sembrano tipo quei video smr sembrano tanto va bene non servono più figo perché ragazzi confronto aspetta li mettiamo uno più immaginate uno dentro l'altro eh ragazzi immaginate uno dentro l'altro ok ragazzi questo era il video che abbiamo fatto oggi allora spero che vi sia piaciuto lasciate un bel like e ciao iscrivetevi al canale ciao 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 ciao